Ben tornati all'appuntamento col meteo per la Puglia. L'alta pressione ben lontana dalla nostra penisola favorirà l'ingresso di altre perturbazioni già da questo weekend che porteranno piogge soprattutto al sud e sul lato ionico del meridione. Per quanto riguarda questo sabato una giornata perturbata torna quindi il maltempo correlati dal fuori l'ombrello su tante località anche della Puglia ci aspettiamo un peggioramento specie sul Foggiano. I settori interni quindi le murge lato ionico settentrionale l'arco tarantino un pochino più asciutto sul Salento sul sud est barese avremo delle piogge sparse tante nubi però non ci saranno a quanto pare fenomeni marcati o comunque persistenti. La ventilazione in netto rinforzo da nord est con raffiche fino a 30-40 km orari di conseguenza mari mossi o molto mossi. Temperature in calo le massime tra i 13 e i 14 gradi le minime oscilleranno tra i 9 e gli 11-12 gradi. Con questo concluso grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.